Nel Palazzo delle Federazioni a Roma è stato presentato il progetto se in gioco o in fuorigioco ethical scuola, un convegno sul tema del bullismo. L'associazione Flames Gold, promotrice dell'iniziativa, ha svolto una tavola rotonda a cui hanno preso parte esperti in materia, educatori, istituzioni e vertici della Polizia di Stato. La presenza del vice capo della Polizia Antonio De Jesu ha reso interesse.